Gentili di rispettatori appassionati di calcio, entriamo in presa diretta dallo stadio Mario Sandrini di Legnago giusto nel momento in cui il signor Sprezzola della sezione di mestre ha dato il via all'ultima giornata del campionato di eccellenza Gironea, una squadra in questo caso è padrona del proprio destino, mancano 90 minuti al traguardo l'ultimo sforzo per regalare il lieto fine alla storia di questo torneo e far esplodere la festa una città intera in trepidazione, le bottiglie sono in fresca, ora Legnago manchi solo tu questa era la nostra presentazione per questa gara decisiva l'ultima giornata del torneo di eccellenza Gironea Legnago Salus opposto al Trissino, sono praticamente tutti in area di rigore quelli del Legnago parte adesso la battuta, Trinchieri di testa e la palla fuori di un nulla Plata verticale a cercare Marchetti, Marchetti che punta Zampieri, prova a rientrare, bravo qui Zampieri sinistro attenzione ancora, occasione clamorosa sciupata dal Trissino Fuzio finta a rientrare, a deludere l'intervento di Marchetti Zampieri un po' di spazio, cross buono, Gasparato di testa e palla fuori va a servire il numero 11 Cazzola che ha un ottimo spunto, ancora Cazzola finta a rientrare, prova il destro, Ongarato si salva Marchetti dall'altra fascia, attenzione Cotei, il controllo di Cotei Vanzo, Cotei, destro, Ongarato, super, Roverato per Cotei attenzione Marchetti, Marchetti in uno contro uno con Zampieri Marchetti, destro deviato, ancora Ongarato controllo su Falsini, attenzione Cazzola, Cazzola all'indietro Roverato, la finta, Roverato destro, di Roverato traversa Vicentino fracasso, forse Friggi, parte lui, destro potentissimo traversa di Friggi Gasparato, cross basso, tagliato, attenzione Zampieri prova a controllare, destro da fuori, Murato, ancora Zampieri destro basso c'è Vanzo in chiusura diagonale, Roverato, tocco dentro Cotei, la posizione è regolare, attenzione, attenzione ancora Ongarato, miracolo di Ongaragovic, eccolo Falsini tenta il pallonetto dentro per Trinchieri, buono lo stop di Trinchieri destro, Roverato appoggia su Cotei, arriva Paoletto a dare una mano ancora Cotei, riesce a deludere un paio di giocatori la palla dentro, Borriero, palo clamoroso sedicesimo calcio d'angolo per il Legnago quando siamo all'ottantanovesimo un minuto fa però, che brividi il palo di Borriero, parte adesso la traiettoria di Brighenti di testa attenzione, palla in rete la palla in rete di Trinchieri esplode il Sandrini tutto il Legnago panchina compresa a caccia di Trinchieri che corre sotto la tribuna incredibile, al novantesimo un minuto dopo un palo clamoroso del Trissino ad ongarato battuto pensate Maschi, fermo immobile vicino all'area tecnica non è in grado neanche di muoversi per esultare viene abbracciato adesso dal fotografo incredibile, al novantesimo dopo il secondo legno colpito dal Trissino arriva la doccia gelata per i Vicentini arriva l'esplosione che il Sandrini aspettava da 90 minuti è proprio all'ultimo secondo se così dovesse finire e ci auguriamo per il Legnago che sia così davvero l'epilogo più bello per un campionato thriller fin qui per una città intera ora c'è stata la ragionevole esplosione di gioia quelli del Trissino chiedono di recuperare all'arbitro Sprezzola di Mestre quello che conta però è che Trinchieri un minuto fa dopo averci provato in tutti i modi di testa, di piede è riuscito a sbloccare il punteggio tenta il lob dentro tenta il lob dentro ma non c'è più niente da fare il campionato di eccellenza finisce con un'epica rete di Trinchieri al novantesimo come in un vero film thriller all'ultimo secondo del campionato di eccellenza girone A il Legnago conquista col ventesimo centro del suo cannoniere del capocannoniere del campionato la promozione in serie D ritorna nel calcio che conta nel palcoscenico che merita il Legnago dopo ben otto anni e ora amici di Legnago tirate fuori lo spumante dal frigo si può correre in strada a fare festa e programmare un grande futuro il gol di Trinchieri al novantesimo ora già le maglie preparate prima della partita possono essere tirate fuori dai giocatori di Mister Maschi Maschi che con gioia molto contenuta si va a spiegare con l'Ovatin onore assoluto al Trissino che ha tenuto botta anzi fino all'ottantanovesimo probabilmente meritava anche la vittoria nonostante il Legnago andasse avanti a provarci in tutti i modi e ha fatto tremare le schiene del pubblico del Sandrini fino all'ultimo istante ed eccola qui la festa del Legnago con la squadra che va sotto la tribuna gremita del Sandrini vedete i cartoncini con la lettera D siamo in serie D we are the champions recita la maglietta che stanno indossando i giocatori di Mister Maschi voleranno le magliette in tribuna ci si aspettava di fare festa oggi certo che finire il campionato in questo modo conquistando la vittoria decisiva proprio allo scadere è ancora più bello quindi dandovi appuntamento alle interviste del dopo partita e mai come oggi saremo contenti di scendere in parterra a farle rinnoviamo l'appuntamento con i nostri telespettatori per il grande calcio di Tenerife il Legnago ha vinto 1-0 col trissino al novantesimo il Legnago dopo 8 anni è tornato in serie D di Tenerife di Tenerife mister Maschi è arrivata questa serie D l'abbiamo visto immobile dopo il gol non ce la faceva neanche esprimere la felicità oggi veramente è una partita molto difficile per noi veramente incredibile la palla non voleva entrare oggi quindi la porta del trissino era stregata ma anche la nostra l'ha ben protetta oggi per fortuna e veramente alla fine abbiamo avuto ragione ma è stato veramente difficilissimo oggi però un ragazzo non l'ho mai mollato effettivamente è un merito ancora di più questo aver vinto oggi che fatica che brividi fino all'ultimo secondo questo trissino veramente non ha regalato nulla se qualcuno poteva avere dei dubbi non ci sono dubbi possiamo fugarli in assoluto ce l'hanno detto prima della partita ma è andato a canto è stato più bello così insomma più sofferta è la vittoria più bella insomma come è stata arrivata proprio al photo finish ci abbiamo creduto fino all'ultimo e per bravura e per merito è arrivata questa meritatissima promozione che liberazione vincere in questo modo qua arrivare in Serie D al novantesimo ormai scaduto una cosa straordinaria bellissima un'impresa della squadra bellissima doveva essere nostro le prime giornate di campionato abbiamo lavorato tutti quanti insieme abbiamo faticato per arrivare qui dovevamo farcela non potevamo non potevamo continuare playoff tutto quanto dovevamo farcela è stata un'impresa bellissima di tutta la squadra diciamo con Mattia che liberazione andare in Serie D dopo una fatica del genere dopo un campionato così lungo così tirato così combattuto andare alla promozione al novantunesimo veramente una cosa irripetibile insuperabile come emozioni sì anche oggi è stata una prova della squadra veramente veramente importante soprattutto del gruppo il trisino è venuto qua e non ci ha regalato niente non è stata una passeggiata anzi ma lo pensavamo anche in settimana che era una partita vera come tutte le altre tutto l'anno abbiamo lavorato su certi principi sul sacrificio della squadra sull'aiuto del compagno l'uno dell'altro abbiamo portato a termine questo campionato in maniera positiva ecco bisogna ringraziare la società ma soprattutto anche il gruppo e siamo stati uniti fino in fondo il ventesimo centro stagionale è più importante in assoluto per questo regnago sì no lo importante è che la squadra ha riuscito a far a finire in bellezza che quello era lo importante quindi tutti contenti c'è problema se faccio 20 o 23 l'importante che il regnago è andato in serie quello è lo più importante di tutto io non so più che tipo di emozioni ho provato sto provando credo che dovrà passare ancora qualche ora prima di capire qualcosa perché francamente abbiamo visto anche il baratro a dire la verità negli ultimi minuti c'è passato davanti tutto il campionato e la soddisfazione di essere arrivati alla meta è fantastica siamo tornati a casa nostra penso che non fosse inimmaginabile anche se uno volesse pensato di immaginare la situazione ma era l'ultima a cui pensare perché riuscire perché è l'ottantanovesimo l'ottantesimo non lo so e dopo le situazioni che c'erano state perché il Trissino chiaramente non è venuto qua per darci la partita perché si è visto da un certo punto di vista hanno onorato il calcio forse l'hanno onorato un po' troppo non hanno mai mollato fino alla fine è stata dura anche quando eravamo sicuramente i giocatori erano contratti non erano tranquilli ma l'importante la cosa fondamentale è che sia arrivato questo benedetto gol che dà la Serie D abbiamo già vissuto momenti di passione come questo e si vede che doveva essere così fino alla fine davvero finale trilling degno di Hitchcock come diceva il dottor Michelazzi poc'anzi era inimmaginabile avrei pensato che fosse andata una partita facile difficile potevi vincere e perdere ma non questo modo sinceramente l'avrei immaginato grazie